Enrico Bellei con il 2 Duchessa SSM e Francesco Tufano con il 3 Daylove Dipa Gennaro Riccio con il 4 DDR Stecca e Warner Martellini con il 5 Derek Ido e Gaetano Di Nardo Non corre Doroteas KV con il numero 6 con il numero 7 Darling Vincenzo Gallo Seconda fila per l'8 Derby Mail Davide Angeletti il 9 Dove C'è Musica Leone Antonio Di Nardo Il 10 D-Day Oro Giussi Savarese l'11 Duelgar e Vincenzo Luongo Esaurita la piegata si entra addirittura per il lancio Daylove Dipa cerca di contenere all'esterno Derek Ido che però è più veloce ed assume il comando delle operazioni Rientra Dua First a Daylove Dipa Mentre Dove C'è Musica Leone si sistema in seconda pariglia E così il plotone arriva al completamento della prima curva I primi 5 sono un po' staccati dal resto del gruppo capeggiato da Darling E davanti intanto c'è Daylove Dipa che ha rilevato il comando dal numero 5 Derek Ido Ora terza posizione per Dua First con a lato Dove C'è Musica Leone quindi Duchessa SSM Ma c'è stata una brusca stoppata del leader tant'è che il gruppo si è nuovamente compattato E si esaurisce la seconda curva con i cavalli che approdano al paletto degli 800 metri Nell'ordine del minuto e 5 decimi Avanza gradualmente Dove C'è Musica Leone che giunge al lato di Daylove Dipa Seconda pariglia per Duchessa SSM Chilometro in 1.16 appena abbondante Per Daylove Dipa che continua a condurre con in schiena Derek Ido A largo dove c'è Musica Leone Si va lungo la piegata di destra 800 a venire a casa Con posizioni che per ora non mutano Con Daylove Dipa ancora al comando Ora presumibilmente l'accelerazione Dove c'è Musica Leone all'esterno della battistrata Che va in pressione Costringe il leader ad accelerare Trento e Sarsi per il passaggio dal 400 metri intermedi Con Daylove Dipa ancora al comando Ora si scopre in terza corsia Duelgar Che cerca di andare a riprendere quelli davanti Mentre per linee interne rimane con il numero 5 Derek Ido Davanti ancora Daylove Dipa che deve replicare Dove c'è Musica Leone che attacca a fondo E cerca di sopravanzare l'avversario Che si difende lungo la corda Con Dove c'è Musica Leone che ora ha messo un musino davanti L'altro che cerca di resistere Dove c'è Musica Leone che nel finale Vede aumentare il proprio vantaggio E conclude vincendo Nei confronti di un comunque Coriaceo Daylove Dipa Mentre al terzo posto si piazza Derek Ido Con il numero 5 44,6 a chiudere 2,31,6 per i 2000 metri Il che significa che siamo nell'ordine dell'1,15 e mezzo Per Dove c'è Musica Leone E Antonio Di Nardo Che nel finale riescono a piegare La resistenza del avversario Daylove Dipa Il 9 al primo posto Gennaro Casillo al training Colore del signor Pierluigi Giannoni Il 3 al secondo Mentre al terzo posto il numero 5 Derek Ido 9,35 l'ordine di arrivo di questa quarta da Capanella Grazie Grazie Grazie